un minuto con padre pio da questo luogo stupendo di san giovanni rotondo la via crucis monumentale del messina qui oggi per leggervi uno stralcio di una lettera che padre pio scrisse a papa paolo sesto una lettera importante anche perché la scrisse al termine della sua vita terrena una lettera che ha la data del 12 settembre del 1968 cosa era successo e che cosa spinse padre pio a scrivere questa lettera beh il 25 luglio del 1968 era stata promulgata la celebre enciclica umane vite che suscitò tanto scalpore anche negli ambienti cattolici e così venne anche che ad accrescere il dolore del santo padre che era già molto provato per tante altre tanti altri avvenimenti in quei momenti di difficili post conciliari quindi padre pio anche a nome di tutti coloro che si sentivano ecco un po legati al papa figli spirituali gruppi di preghiera benefattori delle opere sociali caritative insomma intendeva alleviare con queste parole con questa lettera le sofferenze del papa proprio con la sua preghiera e così scrive approfitto santità del vostro incontro con i padri capitolari per unirmi spiritualmente ai miei confratelli ed umiliare ai vostri piedi il mio affettuoso sequio tutta la mia devozione verso la vostra angusta persona nell'atto di fede amore obbedienza alla dignità di colui che rappresentate sulla terra l'ordine dei cappuccini è stato sempre in prima linea nell'amore fedeltà obbedienza e devozione alla sede apostolica prego il signore che tale rimanga continui nella sua tradizione e serietà povertà evangelica osservanza fedele della regola e delle costituzioni poi ancora padre pio continua e scrive so che il vostro cuore soffre soffre molto in questi giorni per le sorti della chiesa per la pace del mondo per le tante necessità dei popoli ma soprattutto per la mancanza di obbedienza di alcuno di alcuni persino cattolici all'alto insegnamento che voi assistito dallo spirito santo nel nome di dio ci date vi offro la mia preghiera vi offro la mia sofferenza quotidiana scrive padre pio al papa quale piccolo ma sincero pensiero dell'ultimo dei vostri figli affinché il signore vi conforti con la sua grazia per continuare il diritto e faticoso cammino nella difesa dell'eterna verità che mai si cambia con una multa dei tempi e padre pio lo fa anche a nome dei suoi gruppi di preghiera vi ringrazio per la parola chiara decisa che avete detto anche a nome dei miei figli spirituali e dei gruppi di preghiera specie nell'ultima enciclica umane vite e riaffermo la mia fede la mia incondizionata obbedienza alle vostre illuminate direttive grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti